Lo sapete, dite qualcosa per farlo, ma non. Se troppo tardi, bisogna, e lo faremo più tardi, e sarà facile di farlo, ok? Ora, iniziamo. Matteo, puoi far passare i messaggi per piacere? Buongiorno a tutti, buongiorno al mondo, hello everybody, bentornati a chi si è collegato con noi già ieri, e benvenuti a tutti quanti ci seguono oggi per la prima volta. Mi presento, sono Diego Rinaldo, sono professore ricercatore di marketing presso la Cage Business School di Marsiglia, coordinato dal punto di vista scientifico questo seminario e lo modelo. Questo è il secondo workshop internazionale sulle marche territoriali organizzato nell'ambito delle attività del gruppo di azione 6 di EUSALP, la strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina, dal segretariato permanente della Convenzione degli Alpi, da Eurac Research e dal Polo Cuschiavo. Allora, prima di iniziare, ricordo a tutti che l'evento è registrato e sarà successivamente reso disponibile. Ecco alcune informazioni tecniche. Allora, innanzitutto per attivare la traduzione simultanea, come anche vedete nei messaggi in chat, cliccate sull'icona con il globo in basso a destra e selezionate la lingua desiderata, francese, inglese, italiano, sloveno o tedesco. Se invece disattivate questa opzione, sentirete parlare gli speaker nella loro lingua originale, senza traduzione. Se siete su Twitter, l'hashtag di riferimento è Territorial Brands, poi lo metteremo nella chat. Invito tutti i relatori a rispettare i tempi accordati per gli interventi e magari darò un segnale sonoro un paio di minuti prima per indicare di affrettarsi verso la fine. Allora, invito il pubblico a fare direttamente delle domande senza aspettare la fine, ma durante gli interventi o subito dopo. Invito le persone a cui sono state rivolte le domande a rispondere sempre via chat. Utilizzate il box domande e risposte che vedete appositamente, è attivo ed è dedicato. Invece magari usate la chat per problemi tecnici, cose di questo tipo. Il nostro staff è a disposizione per aiutarvi nel caso di problemi tecnici. Allora, oggi è la seconda giornata. Ieri ci siamo occupati principalmente del punto di vista delle istituzioni e delle organizzazioni sovranazionali, come l'Unione Europea, come la Convenzione delle Alpi, come anche Euromontana. Mentre oggi daremo la parola agli operatori di Marche Territoriali, ma anche a studiosi che si sono occupati su questo tema, su cui ancora c'è poca ricerca. Passo ora la parola a Wolfer Meijhofer, che è rappresentante del segretario, segretariato, perdon, permanente della Convenzione delle Alpi per i saluti di apertura sui nostri padroni di casa. Te la parola a Wolfer. Thank you, Diego. Good morning from my side and welcome back to our USALP workshop on small scale territorial brands in the Alps. I hope you had the opportunity to digest the wealth of information we received yesterday and the interesting presentations we saw. As a co-leader of USALP Action Group 6, I'm very pleased to see that so many people are interested in the topic and where and are following our international workshop. It's not by chance that Action Group 6 focuses on supporting, developing and promoting sustainable value chains of Alpine high quality food products. The reason for it is simple. We think that Alpine agriculture and forestry have a huge potential for the development of bioeconomy and sustainable food production and for generating many certified high quality products and environmental services. Moreover, increasing the positive impact territorial brands can have on the sustainable development of Alpine areas by defining environmentally friendly product specifications and by helping local actors to adapt to climate change and to mitigate its effect that corresponds also to the spirit and to the letters of the Alpine Convention and in particular to its protocol on mountain farming, which was already mentioned yesterday by our Secretary General. As Diego said, we got yesterday an overview about the current European political framework. Today's programme will concentrate more on the local level, on the practical level and thus on the socio-economic aspects of territorial branding. Personally, I find it quite impressive that the speakers come from all parts of the Alpine region and reflect the variety of existing small-scale production and distribution systems. This does not come as a surprise because there are already many initiatives ongoing in the Alpine region which makes the theme of our event not only important but highly relevant. I also wanted to mention that USO Action Group 6 is currently undertaking a mapping of territorial brands with the aim to assess the presence, the functioning and the application of these commercial valorisation instruments in the Alpine region. Finally, I'd like to express my gratitude to UROC for the organisation of this online event, to the region of Carinthia for bearing the costs of the interpretation in five languages and to all those who made our international workshop possible. And now I would like to hand over to either Diego or Christian. Christian, go ahead. Okay, now it's on me. Also from my side, good morning, dear distinguished English participants. A very warm welcome. I'm also very impressed that so many people are following us and that is really good. And I just can continue what Wolfke said also on behalf of UROC Research and the Institute of Regional Development. And I also would like to welcome you to the second day of this international workshop on small-scale territorial brands in the Alps. That is organised, as was already said, by USO Action Group 6 and in cooperation, also that needs to be said, with the Permanent Secretariat of the Alpine Convention and UROC Research and Portobos Chiavo. Honestly saying, I'm really pleased that we could attract you and your interest and that you are all with us in this morning. Thank you really for joining. And with the central question already placed in the title of the workshop, so called Can Small-Scale Territorial Brands Contribute to the Sustainable Development of Peripheral Alpine Areas? We tackle on this second day directly the impacts these small-scale territorial brands will have for the local level. But before jumping in, I want to use also the occasion to address my thanks to some of the people who organised this workshop and put so much personal effort into it. And at first hand, this is, of course, Diego from the Catch Business School, who is guiding us so nicely and so warmly through the workshop and is moderating that perfectly our initiative and event. And the second thank goes to Elisa Agosti from the Institute of Regional Development, who assisted Diego in preparing all the details in the background. And of course, it goes also to the Alpine Convention, to Wolfgang and to Lisa Elemunter, who provided us, as Wolfgang said, with financial support and also with their network to get some keynote speakers on board. And the last thank goes to the big think tank behind all these initiatives regarding territorial brands and the relevancy of foodstuff for the cultural heritage, who also brought these topics on the agenda of OISO and who promotes local food initiatives in series. And that's Cassiano Luminati from Polo Boschiavo. And many thanks goes also to him for supporting us. And I'm convinced that this interesting programme of this morning will provide us with fruitful and interesting talks and practical orientated discussions that will tackle a broad range of experiences and perspectives from different territorial brands from various Alpine areas so that we get sensitized. And that is, I think, very important for the future challenges these territorial brands need to tackle and become even more effective and visible. So let's start. And I wish us a good, good and fruitful morning. Grazie mille, grazie mille Christian, questo intervento efficace. Adesso ho la parola, ho il piacere di dare la parola a Eric Logar, che è un ricercatore dell'Istituto di Geografia Anton Melik, del Centro di Ricerca dell'Accademia Slovenia delle Scienze delle Arti. Eric ha condotto uno studio senza uguali nel panorama accademico attuale sulle le Marche Territoriali Slovene, uno studio comparativo e ci vorle rade i risultati principali della sua ricerca. Edo che ci ha condiviso lo schermo. Ad te la parola, Eric. Ja, spoštovani, lepo pozdravljeni iz Ljubljane. Upam, da vidite moj zaslon, Diego. V naslednjih 15 minutah vam bom nakratko predstavil svojo doktorsko nalogo, ki jo pripravljam v sklopu svojega doktorskega študija. Moje imi je Eric Logar, sem raziskovalni asistent na Znastno-Raziskovalnem centru Slovenska Akademija znanosti in ometnosti. Sem pa tudi doktorski študent geografije na univerzi v Ljubljani. Na slov tega prispevka so razvojni izzivi teritorijalnih znang na podeželskih območji v Sloveniji. Namreč, kadar govorimo o teritorijalnih znankah, pogosto razpravljamo o pozitivnih prispevkih, o tistem dobrem, kar znanke prinašajo na območja, vendar pa se je prav, da se pogovorimo tudi o težavah in izzivih, ki se pri razvoju teritorijalnih znang prvzaprav vešče spojavljajo. Samo nakratko o podeželskih območjih v Sloveniji. Slovenija je ozemalsko med manjšimi državami na Alpskem območju, vendar je slovensko ozemlje pretežno podeželsko. Zgolj tukaj, kjer vidite rdečo območje na tem zemljevidu, samo ta rdečo območja so območja mest, vse, kar je v belem, so podeželska območja. Tako, da bi lahko rekli, Slovenija je ozemalsko medjhna država, ampak iz podeželskega vidika, iz vidika podeželskih območji je pa to za nas velika in pomembna tema, ker imamo veliko podeželskih območji. Kljub temu, da je Slovenija Alpska država, je naše podeželje izjemno raznoliko. Namreč v Sloveniji se ne čuti samo geografski, izgodovinski in kulturni vpliv Alp, ampak se tukaj srečujejo tudi geografski vplivi iz panonske nižine, iz sredozemlja in pa dinarskega gorstva. In zato je slovensko podeželje izjemno raznoliko in iz tega vidika zahtevno za razvoj. Tako kot vsa podeželska območja po Evropski uniji, se v Sloveniji vse čas uhvarjamo z vprašanjem, kako podeželje razvijati na način, da bo ostalo konkurenčno v globalni ponudbi, v globalni ekonomiji. Namreč konkurenca se vse čas krepi in podeželska območja se morajo soočiti z vprašanjem, kako biti privlačna, kako biti tržno uspešna tudi v tem post-industrijskem obdobju. Scenarjev oziroma smeri razvoja je več. Ena možnost je konvencionalna ekonomija, recimo konvencionalno kmetistvo za uporabo pesticidov, herbicidov, umetnih gnojil. Druga razvojna smer možna je masovna potrošnja, predvsem povezavi z množičnim turizmom. V Sloveniji imamo takih masovnih potrošenj, mar se ki je v poturističnih krajih že veliko, ogromno ljudi pride na ta območja, trošiti svoj denar, preživljati svoje počitnice, vendar ta masovna potrošnja in ta idila podeželja, ki ga ta povzroča, seveda ni najboljše za razvoj lokalnih skupnosti in pa okolja. In tretja razvojna smer, ki je nekako, zdi se, najboljša, čeprav mi vidno lahka, je smer trajnostnega razvoja, kjer se lokalne skupnosti in njihova gospodarstva razvijajo tako, da se tudi okolje ohranja čim bolj neokrnjeno. V Sloveniji se z razvojem podeželja zadnjih 30 let ukvarja števil, torej številni programi razvoja podeželja so bili implementirani, financirala jih je tako država Slovenija kot tudi občine in pa seveda evropska sredstva, predvsem iz sklada skupne evropske politike. Zasebna sredstva so pa precej redka. In teritorijalne znanke kot pristop razvoja podeželja je pravzaprav samo en od teh pristopov, ki jih poznamo. Ta pristop teritorijalnih znank kot torej pristop za razvoj podeželskih območji smo v Sloveniji prinesli iz sosedne Avstrije, iz severne Italije in iz Švice. Ta pristop nam je bil všeč. Drugo vprašanje pa je, kako uspešno smo ga prilagodili za tukajšne lokalne razmere v družbi in pa gospodarsku. Problem je, ker smo ta pristop teritorijalnih znank v Slovenijo množično vnašali, ampak nimamo pa nobenega enotnega registra teritorijalnih znank in niti nimamo doslej nobene študije, ki bi na ravni države, na ravni vseh podrželskih območji v Sloveniji lahko osvetlila, kakšni razvojne učinke imajo te teritorijalne znanke. Zato bo ta predstavitev nekako vodijo jih dva vprašanja. Prvič, ker nimamo registra, bomo samo na hitro pogledali, koliko teh teritorijalnih znank v Sloveniji sploh je, torej to je kratko, bomo samo pogledali in drugo vprašanje, ki je pa bolj osrednjo, kakšni učinki so, kako se pravzaprav ti učinki teritorijalnih znank vidijo na podrželskih območjih in ali lahko pri tem vidimo tudi kakšen problem oziroma razvojni izziv. Zdaj, ko sem prišel pred tremi leti tukaj v službo, so mi rekli, da bo doktorat v teritorijalnih blagovnih znankah in da jih imam približno deset registrani. Potem sem pa pričel provočevati in raziskovat in sem jih najdel 45 in ta številka še vedno raste, ker pomeni, da imam res ogromno dela. Seveda vse znanke mi se mogel provočiti v podrobnosti, ampak vseeno, torej 45 znank imamo v Sloveniji, teritorijalnih znank. In zato smo sistematično z pomočjo ankete anketirali vse občine v Sloveniji, torej občine so pri nas osnovna institucija nekako, ki se ukvarja z lokalnim razvojem in smo ugotovili, da od 212 občin v Sloveniji jih ima približno 50 vzpostavljeno teritorijalno blagovno znanko. Na tem zemljevidu so občine, ki imajo vzpostavljeno znanko obarvanje v temno zelenem. Občine, ki so ukvarjali obarvanje z svetlo-zeleno barvo, so pa ravno v postopku vzpostavljena, torej znanka še ni registrirana. No, vidite, približno ena četrtina občin ima to vzpostavljeno. S časovnega vidika vidite, najstarejše teritorijalne znanke v Sloveniji so bile vzpostavljene leta 2001 in 2002, potem pa se vsako leto nekaj znank ustanovi vse do lanskega leta 2020, ko je raziskava potekala. Torej, približno 20 let obdobja vzpostavljena teritorijalnih znank v Sloveniji imamo. No, to ni edina prostorska raven, imamo tudi lokalne akcijske skupine, ki imajo svoje blagovne znanke in pa zavarovana območja. To so različni parki, ki imajo tudi svoje teritorijalne znanke, vendar je teh znank mnogo menj in jih bomo zdaj samo samo toli, da imate občutek, da v Sloveniji so občine in pa lokalne akcijske skupine in pa zavarovana območja tiste institucije, ki te znanke imajo registrirane. Če naredimo, tole je skupna karta, ki nam pove, da približna polovica ozemlja v Sloveniji je tako ali drugače vključeno v teritorijalno blagovno znanko. In tukaj vidite, da približna polovica jih je vključenih, to pa še ne pomeni, da se na teh območjih dejansko pozitivni učinki razvoja teh znank čutijo. Zdaj pa gremo na drugo vprašanje, ki je bolj pomembno, bolj bistveno za to predstavitev, kakšni pa so učinki teh teritorijalnih znank in ali se morda pri samem razvoju znank začutijo tudi kakšni problemi ali konflikti pri razvoju teh znank. Tukaj pa nismo delari raziskavi s pomočjo ankete, ampak intervjujo. Vse znanke, torej vse menedžerje teh znank, 45, smo intervjuvali. Potem smo pa še izbrali osem znank in v kviru teh znank naredili 80 intervjujo z proizvajalci oziroma ponudniki, ki so vključeni v te teritorijalne znanke. Skupaj pomeni to 120 intervjujev. To je ogromna baza podatkov s pomočjo računalniške analize. Smo po to vse analizirali in prišli do naslednjih ugotovitev. Ponudniki seveda čutijo pozitivne učinke teritorijalnih znank. Najprej, kar izpostavljajo, je, da pravzaprav s pomočjo tega, da se delujejo pri teritorijalnih znankah, se izboljšajo njihove tržne in pa prodajne poti. Različni kotički, kjer se prodajajo v trgovinah, prodajne police, to so pravice, ki jih ponudniki dobijo s pristopom k teritorijalnih znanki. Tukaj imamo recimo primerjene trgovine iz enega malega lepega mesta v Sloveniji, iz Škofja Loka, kjer imajo posebne police v trgovini, ki so namenjene samo lokalnim ponudnikom s to znanko. Druga možnost je pristop k posebnim online trgovinam. Izboljšajo se njihove prodajne poti. To je ena stvar, ki je dobra. Druga stvar je, da imajo ponudniki tudi možnost konzultacij, posvetovanj, ker številni ponudniki imajo ogromno vprašanj glede tržanja, glede pravnih vprašanj, glede izdelave, embalaže in vse to teritorijalne znanke lahko ponudijo svojim ponudnikom. Številni ponudniki imajo težave z embalažo. Ne vedo, kako je najbolje zapakirati svoj produkt tako, da je privlačen zakupca. In tukaj imamo na primer primer ene tradicionalne slovenske potice, torej to je sladica, zelo stara, tradicionalna je to v Sloveniji, ki je zapakirano eno novo podobo, ki je privlačena zakupce in zgleda zelo profesionalno. No, torej, izgled embalaže se izboljša. Potem imajo številne ugodnosti, ki glede najema stojnic, glede tržnic, plačajo manjšo najemnino in zato imajo boljše vstopne pogoje na te številne dogodke, sejme, prireditve. In to jim je tudi zelo všeč. Na vse zadnje sodelovanje z menedžeri teritorijalnih znank omogočajo tudi boljši nastop k tržanju po številnih medijih. En sam ponudnik težko pride na radijski oglas ali na televizijski oglas ali na spletno stran, če pa se ponudniki med sabo povežajo, pa so seveda močnejši in se lahko skupaj tržijo. Torej, vsi ti projekti so ponudnikom v tržnih znankah na voljo. In na vse zadnje številni seminarji izobraževanja in dogodki mrežanja so seveda za te ponudnike zelo pomembni. Predvsem se skuša ponudnike izobraževat o tržanju in pa povezati kmetijske ponudnike z gostinskimi ponudniki. In ponudniki se na tak način med sabo spoznavajo. Ni samo umevno, da se v eni občini ali v eni regiji ponudniki med sabo poznajo. In na vse zadnje tržne znanke pomagajo tudi svojim ponudnikom, da se takole lahko s kakšnimi promocijskimi dogodki lahko predstavljajo javnosti in te dogodke tudi sofinancirajo. Spoštovani to so bili pozitivni učinki. Imamo pa tudi negativne in zlastijo teh bi se rad zdaj z vami pogovoril. Številni izzivi so glede razvoja teritorijalnih znank z vidika ponudnikov. Ponudniki zaznavajo, da so pogosto te znanke razvijane od zgoraj nozdolj. Iniciativa pride od inštitucij in nekako ne posluša ponudnikov, kaj želijo. Ne posluša njihovih potreb, njihovih želja. In ta top-down pristop je izrazito močen v Sloveniji. Po drugi strani pa tudi bottom-up proces na podeželjskih območjih v Sloveniji. Mrsiki ne deluje dobro, premalo je angažmaja konudnikov, lokalna skupnost je apatična in to je izziv, kako ukrepiti ta bottom-up approach. Mrsiki druge tudi po alpskih območjih in še kje druge je to težava. Druga stvar. Menedžeri teritorijalnih znank se pogosto soočajo s tem, da so preobremenjeni. Praktično nihče od menedžerjev ni zaposlen samo za nalogo upravljanja znanko, ampak imajo številne druge naloge in zato nimajo dovolj časa, da bi se okvarjali znanko samo celostno. Številne druge stvari imajo še in preprosto znanki ne posvečajo dovolj časa. Ponudniki tudi učitajo teritorijalnim znankam, da nimajo komercialista, torej strokovnjaka, ki bi prodajal njihovo ponudbo. In zaradi tega praktično vsi ponudniki v Sloveniji izpostavljajo, da zaradi teritorijalnih znank doslej niso imeli dobička. Čeprav dobiček ni edini vidik uspeha, dobička doslej niso imeli. Ali pa velo zelo malo. Tretja stvar, ki je v Sloveniji težava pri teh teritorijalnih znankah, da ni dolgoročnega financiranja. Pogosto so te teritorijalne znanke vzpostavljene s pomočjo evropskih projektov, ki trajajo dva, morda tri leta. Ko se projekt zaključi, seveda ni več denarja za delovno silo, torej za zaposlene, ni več denarja za razvoj in zaradi tega ti projekti potem zastanajo ali pa propadajo. In ponudniki so teh projektov in te kratkoročne logike financiranja vsi ti in včasih niti ne želijo več sodelovati, ker ni te dolgoročne perspektive. Zlasti mladi, mladi kmetje, mladi podjetniki v teh teritorijalnih znankah ne vidijo vrednote, ne vidijo doprinosa. In to je problem, ker ponudniki so večinoma že precej stari, nekateri celo živpokajeni. Številni ponudniki imajo zelo omejene zaloge. Niso sposobni zalagati gostincov za vse leto, ampak im te zaloge zelo hitro zmanjka. Naprimer, imamo ponudnika čebelarja, ki na leto pridela 50 kozarcev medu. Nemogoče je, da bi tak ponudnik za vse leto zalagal neko gostilno. No, cena znamčenih proizvodov je običajno zelo visoka in to je tudi težava, ker pravzaprav tu ni dosedljivo za vse kupce. In še nazadnje, ponudniki med sabo ne prepoznajo koristi mreženja, ne prepoznajo nekih učinkov sodelovanja, ni nekih projektov, ki bi iz tega ven se razvili. Tako, spoštovani z mojo predstavitjejo smo pri koncu. Nekako, če zaključim, problem je, ker so pričakovanja leti teritorijalnih znanko Sloveniji pogosto preniska, ker ni nekih dolgoročnih načrtov in ni nekih strategij, kako ti cilje doseče. Toliko z moje strani, če imam dokakšno vprašanje, desno vidite tudi moj kontakt, moj e-mail, za tiste, ki vas zanima več, ali pa če imate kakšno pobudo, inicijativo, z veseljem napište mi e-mail, z veseljem z vami sodelujem. Hvala lepa in lepo zdrav. Grazie, grazie mille. Erik, ci hai fatto proprio un ritratto del meglio di quello che possono fare i prendi territoriali, ma anche, era anche l'obiettivo queste due giornate di mettere in luce di cosa si può fare meglio. E ci hai dato proprio il tuo keynote, ci hai dato proprio le condizioni ideali, perché, come se avete visto il programma, adesso abbiamo dei rappresentanti di marche territoriali, ma anche delle aziende che sono membri di marche territoriali e quindi è interessante mettere il, mettere, se mi sentite, qualcuno mi dice che, non sento, mi sentite bene? Ok? Sì. Ok, grazie mille, scusate. Dicevo, è interessante mettere insieme i punti di vista. Allora, ho il piacere di presentarvi adesso rappresentanti di due territori che hanno già delle marche territoriali che funzionano e di un territorio che sta pensando di stabilirne una, quindi sono diversi momenti del ciclo di vita di queste iniziative. Allora, ve li presento. Sono Monsieur Pascal Benolli della marca Isera in Francia, il signor Michael Fendt dell'Austria, che è rappresentante dell'Associazione di Gestione per la produzione di Vulcan Land, la regione dei vulcani dell'Astiria in Austria, e infine il signor Michael Hofer, che è managing director della cooperativa dei cittadini dell'Alta Val Venosta, che è stata un'area convolta nel progetto 100% local di cui Christian Hoffman ci ha parlato ieri. Allora, darei subito la parola al signor De Nondi. Monsieur De Nondi, voi potete partirei vostri crani, s'il vous plait. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ravi di partecipare a questo evento alpin, e per noi, marca territoriale dell'Isera, territorio semi-alpin, è un honneur di partecipare a questo evento. Grazie ancora a Diego di aver invito. Io vorrei organizare la mia domanda su tre punti. La maniera dove la marca ha emergito. Devemmo, quel è il suo cahere dei chari. E tremmo, quels sono i liens? Quels sono i liens con le più piccate marca? E poi una marca regionale. D'abord, rappelez che questa emergente s'è fatta suite a una grave crisi agricole di 2015-2016 dove il lait, ma anche le céréale e la vianda erano, nel commercio generale, molto male rimunere. La volontà della Chambre d'agricoltura del Departamento dell'Isera era di fare una alternativa a un sistema che io qualificerai di Rustin dove l'on boucho dei troui ponctualmente, in venendo a un secolo dei entreprises, ma dove l'on ne fa rien sullo lungo termine. La volontà era di battere ciò che noi abbiamo chiamato delle filiere alimentare di proximità. noi abbiamo pariato su il fatto che, in parlare ai 1,250,000 Iserrois, in parlare della qualità dei prodotti agricoli e alimentari che ci si produisero, noi deviam poter riprendere dei parti di marchi in dei ragioni che erano fortemente colonizzati, se si puoi dire, per dei prodotti più banali, per dei marci di distribuzioni, etc. vi dire tutto di me che noi patissiamo, noi aviamo la faiblesse inerente a un departamento poco tipato, che non ha una identità forte, come per esempio le Savoia, come, io poter dire, le Tirol in Italia o in Autriche. E quindi, il y aveva a la fois a convainco i prodotti, i transformatori e i consumatori che c'erano in questo departamento una alimentazione originale, di qualità che poteva satisfare i consumatori in loro bisogno e ottenere una justa remunerazione verso l'amont, verso la produzione, perché c'è stato l'avete capire il deal di parto, il marchio di parto era di rinunere davanti più i prodotti quindi la nostra marca è alimentare, chiaramente alimentare e asso a la fois gli prodotti il mondo della transformazione essenzialmente dei artisani e la distribuzione di d'ailleurs nostro primo il è venato del mondo dell'industria e conoscez parfaitamente le ruaggio della distribuzione e della transformazione noi abbiamo quindi di negociare una convention con l'INAO l'instituto national delle appellazioni d'origine per posizionare le prodotti della marca Isir le prodotti sono l'origine garantia d'origine qualunque il prodotti è prodotti sull'Isere qu'il soit transformato o non il prodotti viene dell'Isere 2 il garantia una justa remunerazione al prodotto è un elemento extremamente importante e troisièmement son niveau de qualità car l'ambition è di fare monter en gamme la produzione son niveau de qualità doit essere soit bio soit HVE haute valeur environnementale allora questo aspect HVE che è un concept un po' franzai sul quale le power public ha detto a partir di 2022 c'è oggi a partir di 2022 we voglio 50% de prodotti in la restaurazione collective qui soit du bio soit HVE la qualità c'è HVE HVE se defini par quatre critères qui sont un impact positif sur la biodiversità une maîtrise de l'utilisation de l'eau une faible utilisation des produits phytopharmaceutiques et une maîtrise voire une maîtrise de la fumure des intrants de la fumure qui sont pour faire tendre les agriculteurs vers une utilisation des produits organiques plutôt que des produits de synthèse donc vous voyez bien qu'il y a un step to step une marche en avant une progression qu'il faut accompagner pour que les producteurs puissent adhérer largement au process notre ambition au niveau de la production c'est clairement que Isir fédère rassemble les producteurs et soit un outil de développement vous le comprenez avec ce que je viens de dire c'est un outil de développement pour amener les producteurs à se décaler légèrement ou beaucoup par rapport à la production conventionnelle pour dans la mesure où on leur promet et où ils obtiennent une juste rémunération moi le paysan moi l'agriculteur je ne peux pas accepter d'embarquer mes collègues vers un leurre je leur promets 10 à 15% de rémunération supplémentaire avec cette démarche pour les distributeurs il s'agit aussi d'avoir une marque qui valorise l'origine locale et qui leur permet de communiquer vers les consommateurs et pour le consommateur il lui il faut que nous donnions cette cette vision verticale d'une origine d'une juste rémunération de l'acte de production et d'un cahier des charges de qualité qui lui garantit que cette production-là répond à son envie à son désir d'avoir des produits de qualité dans son assiette alors je vous ai déjà parlé un peu de l'émergence un petit peu de la du cahier des charges peut-être dois-je développer un peu la façon dont on garantit l'origine et les différents éléments du cahier des charges monsieur je m'excuse je devrais passer la parole aux autres intervenants sinon on n'arrivera pas à la fine mais je vous remercie si vous pouvez très rapidement compléter et après je laisserai la parole aux prochains intervenants merci beaucoup et désolé merci Diego de me rappeler aux contingences de la vidéo et de la vision donc il y a un comité alors pour faire simple pour garantir une cohérence et une solidité de l'ensemble il y a un comité d'agrément qui avec l'appui technique des techniciens des chambres consulaires agricoles et des métiers permet de faire des fiches qui garantissent que les produits cadrent absolument avec notre cahier des charges deuxièmement sur le juste rémunération puisqu'il faut que j'aille vite on se cadre sur les coûts de production et quelque part la logique d'ensemble c'est une logique de commerce équitable pour aujourd'hui où en est-on ? Notre bilan aujourd'hui c'est 90 agriculteurs agréés plus 4 groupes d'agriculteurs ce qui fait qu'il y a à peu près 150 agriculteurs qui ont des produits agréés à la marque c'est 30 artisans 4 moulins et donc environ 1200 références alors mon dernier chapitre c'était le lien avec les autres marques nous avons notamment dans le département de l'Isère qui a voulu mettre en avant tout le département de l'Isère avec tous les aspects touristiques tous les aspects ingénierie qui sont très très importants autour de Grenoble puisque Grenoble avec la ZIRS avec la matière grise etc. et donc il y a une marque qui s'appelle Alpes Isir qui est un peu avec un lien ce sont deux marques différentes on est bien clair il y a une marque alimentaire Isir et une marque chapeau une marque attractivité du département qui s'appelle Alpes Isir mais il y a un lien de communication dans la communication on avance ensemble voilà et je crois que par rapport à des marques plus petites des marques de petits territoires de l'Isère nous proposons simplement que les produits qui sont déjà agréés par ces marques puissent recevoir de fait la promotion que nous l'accompagnement de promotion de la marque Isir j'aurais pu dire deux points sur le financement nous avons la chance d'avoir un filet de sécurité qui nous est garanti par le département et par la métropole de Grenoble mais ceux-ci ce sont des éléments de départ et nous bâtissons un plan de marche en avant qui doit être autonome merci merci beaucoup monsieur Denoli pour avoir amené à cet atelier ce regard vraiment français sur la façon d'organiser les marques territoriales aussi par rapport aux autres marques touristiques comme vous l'avez c'est vraiment très intéressant et c'est dommage qu'on n'a pas une heure pour vous écouter pour vous écouter les autres interventions mais c'est un peu la logique de cette démarche de donner un regard peut-être plus superficiel mais sur tous les pays de l'arc alpène merci beaucoup vraiment et je donne la parole à un fan de la marque Vulcanland à qui je demande de présenter la sua réalité ja grüß Gott vielen Dank für die Einladung ich hoffe sie hören mich gut gut verständlich ich darf ganz kurz die Marke die Regionsmarke steirisches Vulkanland vorstellen im Gegensatz zu vielen anderen Marken glaube ich ist unsere Marke sehr stark als Innenmarke konzipiert die die Region als Ganzes präsentiert nicht nur Produkte spielen eine Rolle aber es geht nicht um Produkte alleine in der Region ich werde zur Einführung ein paar Bilder damit sie auch sehen wo wir zu Hause sind mit ihnen teilen wie Sie sehen können sieht es bei uns nicht sehr alpin aus wir sind im außeralpinen Bereich bei uns wenn man auf die Hügel hinauf steigt kann man die Berge sehen aber die Berge sind nicht direkt bei uns zu Hause Sie sehen das ist eine hügelige Landschaft bei uns sehr zerstreute Siedlungen wir sind auch wie Sie auf der Karte sehen können im äußersten Südosten Österreichs in einem sehr spannenden drei bis vier Ländereck je nachdem wie man sieht mit Slowenien Ungarn und Kroatien viele Menschen bei uns sind sich auch nicht bewusst dass Ljubljana oder Sagriff näher sind als Wien zum Beispiel unsere eigene Bundeshauptstadt wir sind als Region als Liederregion so wie es schon von Herrn Loga sehr breit erklärt worden ist entstanden als Liederregion haben wir 31 Gemeinden ungefähr 1200 Quadratkilometer und 102.000 Einwohner in unserer Region noch soviel zum Hintergrund wie Sie sehen können eben Weinbau ist bei uns in gewissen Bereichen recht dominierend aber auch eine sehr vielfältige buntstrukturierte Landwirtschaft Weizenambau ist in der letzten Zeit auch stark angestiegen ansonsten sehr viel Mais Schweinezucht Hühnerzucht Obstbäume spielen bei uns eine zentrale Rolle von der Wertschöpfung her in der Landwirtschaft ist das Obst sogar die prägendste Kultur die wir haben und auch sehr stark landschaftsprägend wobei es oft nicht mehr in dieser Form dieser Streuabskulturen leider vorkommt da diese ja mit heutiger Landwirtschaft nur sehr schwer finanzierbar sind aber hier haben wir Ideen und Ansätze das zu stärken die landwirtschaftlichen Flächen wie Sie hier sehen können sind sehr kleinteilig es gibt keine großen Felder wir haben nirgends größere Flächen das heißt für unsere Region haben wir keine Chance mit Massenproduktion mitzuhalten wir haben keine Chance mit Skaleneffekten zu arbeiten das heißt wir müssen mit hochwertigen Produkten in einer anderen Liga mitspielen ein guter Vortrag hat das einmal genannt es gibt nirgends mehr Hirn pro Hektar als bei Ihnen und genau diesen Effekt müssen wir auch sehr gut nützen wir haben ein starkes Gewerbe ich habe viel von Landwirtschaft gesprochen weil es natürlich landschaftsprägend ist aber das Gewerbe Handwerk spielt bei uns natürlich eine sehr zentrale Rolle viele Betriebe sind 10-20 Mitarbeitern in dieser Größenordnung und auch sehr sehr flexibel und haben jetzt zum Beispiel auch in der Krise gezeigt dass sie sich sehr sehr gut und schnell anpassen konnten und mit neuen Situationen umgehen können wir haben jetzt wieder eine Arbeitslosigkeit bereits wie vor der Pandemie und sind sehr froh darüber und sind stolz auf die Unternehmer die das so gut meistern konnten wir haben einige kleinere regionale Zentren mit 5.000 bis 15.000 Einwohnern und ansonsten sehr stark zerstreute Siedlungen ein Wort zu den Vulkanen noch hier was Sie hier sehen sind die Gleichenberger Kogel wir haben ca. 30 Vulkanschlotte in der Region alle nicht mehr aktiv dieser Vulkan das ist die Spitze eines riesengroßen Vulkanes wie uns die Geologen sagen der ähnlich aufgebaut ist wie der Ätna nur jetzt schaut er nur wenige hundert Meter heraus und ist großteils unter Kilometer dicken Schotter Schichten verdeckt aber prägt nach wie vor das Bild der Region und auch die Terme stehen natürlich in diesem Zusammenhang für uns als Region ist es ganz zentral dass wir eine starke Vision haben wo wir hin wollen ein gemeinsames Zukunftsbild wir nennen es Zukunftsfähigkeit 2025 sind jetzt nur mehr vier Jahre als wir es entworfen haben waren es über zehn Jahre in der Zukunft das heißt wir haben glaube ich weit vorausgedacht wir wollen das in den Bereichen menschlich ökologisch und wirtschaftlich erreichen und haben damit ein sehr umfassendes Portfolio an Maßnahmen die wir gemeinsam umsetzen möchten in der Region als Regionalentwicklung und für uns war die Marke in erster Linie ein Vehikel um diese verschiedenen kleinen Maßnahmen die in der Region passieren die Menschen machen die Ehrenamtliche machen die in Betrieben geschehen um diese vielen positiven Dingen für die Region gemeinsam sichtbar zu machen ansonsten haben wir tausende kleine Dinge die nicht gesehen werden und so wird sichtbar dass das in eine gemeinsame Richtung hin arbeitet zu einem gemeinsamen großen ganzen beiträgt und damit quasi das Ganze wesentlich mehr ist als die Teile oder als die Summe der Teile nach dem Sprichwort und diese Marke Steirisches Vulkanland bündelt das Ganze mit dieser Marke haben wir auch dann versucht eine starke Kooperationskultur in der Region zu prägen gerade aufgrund der Kleinheit was Sie hier sehen sind einfach Beispiele regionaler Produktmarken hinter jeder dieser Produktmarken stehen aber nicht oder Landwirte die gemeinsam hinter einer Marke stehen und so sich gemeinsam weiterentwickeln und auch gemeinsam nach außen vermarkten und unser größtes Netzwerk zum Abschluss möchte ich noch kurz vorstellen die Meisterkultur das ist ein Netzwerk der Regionalwirtschaft in dem quasi Betrieben als eine Schiene unserer Marke ermöglicht wird die Marke Vulkanland zu nutzen in diesem Netzwerk der Markenlizenz das ist quasi die Marke im Sinne auch wie es die Nolli glaube ich erklärt hat in diesem Netzwerk sind über 200 Markenlizenzen vergeben und insgesamt da wir auch an Gruppierungen diese Gruppierungen nicht Markenlizenzen vergeben es haben über 650 Betriebe und diese Betriebe und diese Markenlizenznehmer haben das Recht die Marke zu verwenden durch diese Markenlizenz das vergeben das ist markenrechtlich geschützt sie bekennen sie müssen einen Standard in der Region haben sie müssen eine regionale Eigentümerschaft haben und sie müssen sich zu den regionalen Werten und Idee bekennen und auf eine weiterführende Kontrolle der Produktqualität haben wir auch aufgrund der Vielfalt die in diesem Markennetzwerk ist und auch aufgrund von viel Bürokratie die es ja gibt haben wir dann verzichtet und das so sehr einfach gehalten und somit ist die Marke quasi kein Produktziegel das ein gewisse Gütekriterien erfüllt sondern eine stark emotional verankerte Regionsmarke die auch für Produkte verwendet werden kann so viel wenn für den Start Grazie mille Signor Penn questa interessantissima testimonianza ci porta dalla Francia all'Austria adesso penso che parleremo ancora tedesco, ma torniamo in Italia piacere di dare la parola al signor Michael Hofer della cooperativa dei cittadini dell'Alta Val Venosta Hallo, schönen guten Morgen. Mich freut es sehr, dass ich heute hier sein darf und den Finchgau, unsere Bürgergenossenschaft Oberfinchgau und unsere Marke da vorstellen darf. Ich weiß nicht, können Sie meinen Bildschirm sehen? Hat das funktioniert? Okay, danke schön. Also, der obere Finchgau ist eine Region in Norditalien, in Südtirol und wir sind dort vor Ort, also hier im Alpenbereich. Die nächsten größeren Städte sind Miran und Bozen in Italien und hier sehen wir die Region des oberen Finchgaus. Und hier hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ein zivilgesellschaftlicher Prozess in Gang gesetzt. Also, der obere Finchgau ist charakterisiert durch eine noch vielfältige Landwirtschaft. Also, wir haben noch Getreideanbau, wir haben Milchkuhhaltung, wir haben auch Gemüseanbau, ein paar verschiedene kleine Weinbauern. Und jetzt ein weniger ein krasser Vergleich, der untere Finchgau ist geprägt durch Monokulturen, intensiv Obstanbau in Spelieranlagen und wird natürlich auch sehr intensiv mit Pestiziden behandelt. Und nicht nur das Problem, sondern auch verschiedene andere Probleme durch den Klimawandel, durch das Vorrücken der Intensivobstanlagen in die höheren Lagen, also wir sprechen dann hier von Lagen von 1000 Metern oder 900 Metern, hat sich eine Veränderung in der Landschaft bemerkbar gemacht. Und dies hat der Zivilbevölkerung nicht gefallen. Und ja, 10 Jahre lang hat man durch Veranstaltungen, Sensibilisierungskampagnen, Feste, verschiedene Aktionen gestartet, um die Bevölkerung zu informieren. Und die Gemeinde Malz hat dann ein Pestizidreferendum durchgebracht, in der sich 75 Prozent der Bevölkerung auf oder gegen Pestizide ausgesprochen haben. Und damit wurden eigentlich Pestizide verboten in der Gemeinde Malz. Da hat es dann verschiedene Gerichtsverfahren gegeben. Zurzeit wurde das Verbot wieder gekippt vor Gericht. Es geht jetzt immer weiter auf die weiteren Instanzen und wir werden das weiterverfolgen. Jedenfalls durch diese zivilgesellschaftliche Bewegung wurde die erste Bürgergenossenschaft in Südtirol gegründet. Bürgergenossenschaften sind eine neue Form der Genossenschaften aus dem italienischen Raum, also in Ligurien, Kampagnen, in peripheren Gebieten vor allem gegründet worden. Bürgergenossenschaften charakterisieren sich durch eine neue innovative Form der Genossenschaft, in der sich Mitglieder und Bürgerinnen des Territoriums für das ganze Territorium einsetzen. Also nicht nur klassisch im Sinn der Mitgliederförderung einer Genossenschaft, sondern immer das gesamte Territorium als Ganzes. Und so zeichnet sich dann auch unsere Tätigkeit aus als Bürgergenossenschaft. Wir organisieren Märkte, in denen wir natürlich den Anbietern und Produzenten die Möglichkeit geben, ihre Produkte lokal zu vermarkten und direkt zu vermarkten. Wir haben eine Dorfseinerei übernommen und die vor dem Ausstand, in der wir biologischen Ziegenkäse herstellen und regional vermarkten. Darüber hinaus auch noch weiter. Und wir veranstalten sehr viele kulturelle Events, also Buchvorstellungen, Kinoabende, Konzerte, Vorträge, laden Personen ein, um das Netzwerken zu fördern, um positive Beispiele über den Alpenbogen hinaus in unsere Region zu bringen und das andere Wirtschaften zu betruchten und zu ermöglichen, von denen wir überzeugt sind, dass es möglich ist, dass andere wirtschaften und vor allem auch notwendig, um den Wandel einzuhalten. Und hier sieht man ganz kurz, also die vielfältigen Tätigkeiten unserer Genossenschaft, also Kultur ist dabei, die Landwirtschaft ist dabei, bei der Vermarktung, die Produktion, der Tourismus und aber auch Wissen, also das Know-how. Uns ist es auch sehr wichtig, dass das Wissen in der Region gehalten wird und nicht in die großen Zentren abfließt, so wie auch das Kapital meist in die großen Zentren abfließt und in der Peripherie dann nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen ist es oft sehr schwierig, in sehr kurzer Zeit unsere Tätigkeit vorzustellen. Hier links oben sieht man auch unsere Marke, also das ist das da. Also wir schätzen das, was da ist, ist unser Slogan. Und den setzen wir also nicht nur im Lebensmittelbereich um, sondern auch in allen anderen Bereichen unserer Tätigkeit, sei es jetzt in der Kultur, aber auch im Handwerk und im Tourismus. Wir wollen, auch im Tourismus, möchten wir irgendwann ein Gastronomie-Projekt verwirklichen, indem zum Beispiel das Urlaub im Baudenkmal gefördert wird und nicht das, was schon da ist, nicht das, was neu gebaut werden muss. Und hier sieht man noch kleine Zusammenstellungen unserer Tätigkeiten. Genau. Und ich habe mich versucht, kurz zu passen und vielleicht können wir dann danach noch ein bisschen länger plaudern, wenn es Fragen wird zu geben. Dankeschön. Grazie mille per questa bellissima presentazione. Sono stati tre casi, tre aree molto diverse, anche con delle istanze molto diverse tra loro, dei contesti istituzionali molto diversi. e questi ci hanno dato una possibilità di vedere come da una parte dall'altra problemi possono essere molto simili, però poi il modo di organizzarsi e gli obiettivi che ci si dà possono essere molto diversi a seconda anche del contesto istituzionale, delle politiche di supporto, ma anche della conformazione del territorio e via dicendo. Allora, mi sarebbe piaciuto dare la possibilità di parlare di nuovo a tutti quanti. Vi avevo indicato tutta una serie di domande su, ad esempio, su quale può essere il ruolo delle politiche pubbliche a diversi livelli, regionale, nazionale, fino a quello europeo, ma nell'interesse del tempo purtroppo dobbiamo muoverci alla fase successiva. Quindi io vi invito a queste domande che vi avevo fatto sul ruolo delle politiche pubbliche, se avevate preparato già una risposta, di scriverla in chat, che così magari utilizziamo questa funzionalità per iniziare un dibattito, così se rimanete un po' alle fine vi darò sicuramente di nuovo la parola. E a questo punto mi piacerebbe ringraziarvi, passare alla fase successiva e far parlare, abbiamo due rappresentanti di due marche territoriali, quindi non della organizzazione che gestisce la marca territoriale, ma bensì di organizzazioni che ne sono membri. E vorrei dare la parola al signor Reto Rausch della Biraria Ingiadinesa, che è una birreria pluripremiata per la sua produzione di birra bio. Il signor Reto Rausch con la sua azienda è membro della marca territoriale Gunschlin, che copre il territorio del comune di Valsotto in bassa Ingadina, che è stato coinvolto anch'esso nel progetto 100% local. Allegra, signor Rausch, è lì e con noi ci racconta la sua esperienza con Gunschlin, per piacere. Grazie a tutti, Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Il microfono. Scusa, avevo il microfono disattivato. Grazie mille per questa presentazione e anche grazie mille per aver fatto il punto anche su questa idea della burocrazia che a volte può essere un ostacolo per i piccoli produttori, che non è il suo caso, che è un'azienda già abbastanza grandina, che però può essere un ostacolo al far parte di queste marche territoriali, perché come anche l'aveva messo in evidenza la presentazione di Eric Luger prima, far parte di una marca territoriale può permettere di avere tanti vantaggi, però ci sono anche dei costi, ad esempio dei costi di gestione, dei costi di vincoli, di controlli, delle fee di iscrizione e via dicendo. Dopo questa presentazione torniamo di nuovo in Slovenia e mi piacerebbe dare la parola alla signora Gra, del Giardino Gra, che è un'azienda che produce verdura, ma anche dei bellissimi fiori che vengono usati anche per i matrimoni. La zona è nella zona e fa parte della marca territoriale slovena Babica in Dedek, spero di pronunciarlo bene, prodotti naturali delle colline di Skosja, Loka, non sono sicuro della pronuncia, che è di proprietà della Sora Development Agency. Allora, Babica in Dedek, ho fatto le mie ricerche, vuol dire nonna e nonno in sloveno e di recente il marchio ha subito un restyling, prima si chiamava Nonno Giacca e Nonna Gerca, se li pronuncio bene. Mi piacerebbe chiedere alla signora Gra quali sono i vantaggi, cos'è cambiato per lei una volta che è entrata a far parte di questa marca territoriale. Noi la sentiamo, we hear you. Ci sente? Yes? Lep pozdrav vsem, skupaj. Mi smo jo tako iško filoke, kot je že povedal. In sicer v blagovno znamko smo vključeni par let zdalje, ene, 3-4 leta. Tako da, jaz sem zelo vesela, da sem lahko vključena v to znamko. Tudi zaradi tega, ker so boljše možnosti prodaje, tako kot je Erik že lepo povedal, da se odpirajo trgi, če si vključeno v to blagovno znamko, enostavno te ljudje lažje sprejmejo, neke kvalitete moraš zagotoviti svojimi izdelki. Če hočeš biti sploh vključen, kar pomeni, da enostavno dobiš prej zaupanje strani kupcev, kot kar pa če se sam trudeš prodreti na trg, tle je res kuj. Kupci so zelo zahtevni in ne zaupajo ti kar od enkrat, če ti ponuješ en izdelek in če se pa vključaš v blagovno znamko, mislim, da s tem nek predoržje oziroma neko zaupanje že takoj dobiš strani kupcev, bolj te porajtajo, lažje je pridati do trgovin. Tako da, kakšne so pa spremembe, kako sem rekla, vključeni smo, ne vem, 4-3 leta ali pa mogoče kakšno leto večno, ne vem zdaj točno na pamet. Tako da, kakšne so bile spremembe v teh 3-4 letih, ne vem, zato ker nisem že od začetka. Vse mi pa zdi dober, da ta blagovna znamka drugače dober deluje, ima dobre ideje, dobre načrte, ki pa niso vedno lih tako v realnosti pol spelani, kot bi si vsi želeli oziroma ni tazga efekta, kot bi si pač mi ponudniki želeli od te blagovne znamke. Ni problem v blagovni znamki, problem je, se mi zdi, bolj pri teh projektih, tako kot je Žerik povedal, da so kratkoročno zapeljani oziroma polkar naenkrat vse ali se pozab, ni več želje strani tudi trgovcev, da bi sodelovali pri projektih naprej. Tudi mi, kot ponudnik, imamo zelo malo časa, da se ukvarjamo zdaj samo s to blagovno znamko in res bi bilo fino, da bi tudi gospa Kristina za nas imela pač več časa in bi ona sam to delala, tako kot je Žerik povedal, da ona ima še veliko druzga dela tudi zraven in se mogoče te znamke ne more posvetiti tako, kot bi se rada, da bi pač ponudnike angažirala pa tudi trgovce, da pač projekti, ki se delajo, da se delajo dolgoročno. Da niso to projekt eno leto in pol se vse pozab, ampak da projekt funkcionira tudi naprej, tudi če njeni več zraven, da je dober zapelan, da so neki efekti od tega projekta, da smo vsi zadovoljni in tako ponudniki kot trgovci, da se pač pozna nek efekt pri teh projektih. In to se mi zdi tudi največji problem, da recimo pri nas imamo veliko ponudnikov, ki eni pač ne želijo pristopiti k blagovnim znamkam, eni so pri blagovnih znamkah že del časa in tisti, ki so že del časa, tisti imajo pač avtomatsko prednost tudi pri trgovcih, ljudje so jih sprejeli, jih poznajo, trgovci pa mogoče včasih nadajo lih možnosti tudi drugim mlajšim, ki so se kasneje vključali v blagovno znamko, čisto enostavno zaradi tega, ker se jim pač določeni izdelki zelo dober prodajajo in jih nočijo menati, kar je prav, da jih ne menajo, lahko bi jih pa dodali, ampak jih tudi ne želijo dodati, zato, ker pač se jim ena stvar dober prodajajo in niso pripravljeni dodati še kakšne druge ponudbe zraven. Poleg tega je pa tudi tle cena, tako kot je že Erik tudi povedal, te izdelki so le više kakovosti, imajo nek certifikat, preverjanje, so v blagovni znamki in niso dostopni niti pač vsem ljudem, nažalost, nekateri jih pač tudi zaradi cene ne bojo kupili, druge je pa pač težko najdati. Če niso v trgovini, jih sami pač verjetno ne bojo poiskali, če jih ne bojo slučajno videli na internetu. Premal je teh trgovin, ki ponujajo te izdelke in pa tle je zelo, zelo pomembna tudi cena, tudi te naši trgovci zelo, zelo s temi svojimi maržami pripomorajo k temu, da so izdelke še dražji. Se mi zdi, da pri nas nimamo lihte pravične trgovine, da bi bil ponudnik, zadovoljen s ceno in konč koncu tudi kupec, mislim, da ta posrednik preveč, preveč zase vzame, da bi bilo pač vsem dosegljivo to. Tako, to so moje izkušnje s blagovno znamko. Grazie mille, signora Gra, se posso farle proprio una domanda, una risposta veloce, veloce. Qui ci sono vari territorial brand che ci ascoltano, dal suo punto di vista cosa possono fare in territorial brand per migliorare la relazione con voi produttori? To je težko, mislim, težko je odgovoriti na to vprašanje. Najbrži je vzavesti ljudi, treba kaj premakniti, da se bo to izboljšalo, ker tudi če pri nas rečejo, da je v redu. Grazie mille, grazie mille per questa risposta. Allora, la ringrazio, forse rimanga con noi che forse alla fine riusciremo ad avere anche un pochino di tempo per una discussione così. Sì, è giunto il momento di dare la parola a Paola Gioia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, Paola ci porta un punto di vista che non abbiamo ancora esaminato. Abbiamo parlato ieri di grandi istituzioni europee, abbiamo parlato di marche territoriali, abbiamo parlato dei produttori che sono membri di marche territoriali e adesso veniamo a parlare di consumatori. Mi fa piacere che il tema del prezzo sia venuto fuori oggi già un pochettino perché è una delle cose che nelle ultime due testimonianze di oggi forse riusciamo a mettere in luce un po' meglio. Cedo subito la parola a Paola che ci presenterà il suo lavoro di ricerca. Grazie, buongiorno e grazie di avermi concesso l'opportunità di essere qui. Oggi vi espongo alcuni risultati della ricerca che sto conducendo nell'ambito del mio percorso di dottorato. Il tema della ricerca è quella del territorial brand e il contesto analizzato è quello della Valposchiavo, un cantone italiano della Svizzera dove è stato creato il marchio 100% Valposchiavo per certificare i prodotti realizzati interamente con materie prime locali e il marchio Fight Su in Valposchiavo per i prodotti che contengono almeno il 75% di materie prime locali. Questo progetto ha convolto anche i ristoratori, 13 dei quali hanno sottoscritto una carta che richiede la presenza nel menù giornaliero di almeno tre piatti preparati con ingredienti certificati 100% Valposchiavo. In particolare la presenza di questi ristoranti sulla piattaforma online più utilizzata dai turisti per decidere dove mangiare e quali luoghi visitare, ovvero TripAdvisor, risulta utile per esaminare l'impatto dei marchi territoriali sulla percezione dei consumatori e quindi per capire se essi sono un buon strumento per comunicare l'origine locale dei prodotti. Attraverso metodi di ricerca digitale sono state raccolte 1046 recensioni realizzate dai consumatori sui ristoranti firmatari della carta, le quali sono state analizzate secondo un approccio di ricerca di tipo interpretativo. Qui potete osservare alcune recensioni e quindi alcuni riferimenti alla cucina locale, ai prodotti del territorio, qualche commento che apprezza l'attenzione nella scelta degli ingredienti, ma in realtà quello che risulta è che solo in 5 recensioni si fa riferimento al marchio 100% Valposchiavo, cosa che farebbe pensare al fatto che ci sia poca consapevolezza del marchio sia da parte del consumatore che probabilmente da parte del personale del ristorante che non promuove in maniera adeguata il marchio. D'altronde anche alcuni menù risultano poco esplicativi e spesso presentano il marchio ma non lo spiegano bene, come potete vedere in questo esempio dove il marchio compare ma vicino a un piatto come quello dei pizzoccheri che non specifica gli ingredienti e quindi non si sa se tutti o quali di essi sono certificati. Ma il risultato più eclatante dell'analisi è che i consumatori non distinguono chiaramente tra i prodotti tradizionali e quelli di produzione locale. Se guardiamo i numeri, i piatti tradizionali vengono menzionati il doppio delle volte rispetto agli ingredienti locali. Prendiamo ad esempio i pizzoccheri che sono quindi delle tagliatelle tipiche della regione prodotte con grano saraceno e sono uno dei piatti più citati nelle recensioni di TripAdvisor eppure i consumatori non sembrano distinguere quali pizzoccheri sono fatti con farina proveniente da coltivazioni locali che tra l'altro sono state rilanciate proprio dal marchio 100% valposchiavo, da quelli che vengono invece prodotti con farine provenienti da aree sconosciute. Quindi se volessimo generalizzare questo risultato potremmo affermare che nella percezione dei consumatori le tipicità e la provenienza locale delle materie prime non sono ben distinte ed è come se la prima implicasse necessariamente la seconda. La domanda a questo punto è quindi se si tratta solamente della percezione del consumatore oppure se è un problema di comunicazione da parte di chi dovrebbe promuovere adeguatamente il marchio e quindi la località degli ingredienti. Fanno pensare ad una non adeguata comunicazione anche riferimenti ad alcune ricette non tradizionali come ad esempio la pizza che è al secondo posto dopo i pizzoccheri per numero di citazioni nelle review. In alcuni ristoranti la pizza viene proposta con farine locali e non solo anche con mozzarella e salsa di pomodoro che sono state appositamente realizzate da alcuni produttori del luogo che hanno collaborato per proporre una pizza 100% valposchiavo. Eppure questo aspetto non viene evidenziato nelle review e coincide con una non adeguata presenza del marchio sui menu della pizza. Quindi la domanda rimane sempre questa ovvero se probabilmente c'è bisogno di fare qualcosa in più in termini di comunicazione. Vi lascio con questo quesito e lascio la parola a Ciro che viene dopo di me che probabilmente può fornirci una soluzione. Grazie. Grazie Paolo, grazie per la parola. Volevo ringraziare anche Diego per averci invitato e spero mi sentiate bene. Adesso condivido lo schermo. Ciro mentre condividi lo schermo ti presento così. Allora Ciro Borrelli è cofondatore di Quality Chain che è una startup con sede in Svizzera a Lugano ma è fondata da tre giovani uomini italiani che sono emigrati. Uso questo termine perché lo mettete sul vostro sito così per approfondire la tecnologia blockchain e ci parlano di quale soluzione hanno sviluppato per aiutare i piccoli produttori a fare storytelling che forse come Paola menzionava nella sua presentazione forse uno dei problemi per far passare al consumatore il valore di queste marche territoriali. Ciro grazie a te la parola. Grazie Diego. Mi ripresento, sono Ciro Borrelli e sono il CEO di Quality Chain. Oggi mi piacerebbe parlarvi del nostro progetto. Volevo chiedervi quante volte vi è capitato di sedervi a gustare magari un pranzo tipico del territorio, magari con un buon vino e non sapere niente di quello che state mangiando e bevendo. Di un vino solitamente vediamo il nome, la provenienza e niente di più, quando invece avrebbe un mondo da raccontare. Dalla sua storia, quella del suo territorio, dall'esperienza che questo offre, dalle persone che lo abitano e lo vivono ogni giorno. Tutto questo però non viene quasi mai comunicato al consumatore finale. E quel poco che passa spesso è comunicato in un'unica lingua, prendendo di fatto l'informazione inaccessibile per tutti i turisti o i clienti stranieri. Con Quality Chain abbiamo deciso di risolvere questo problema creando un modo semplice per spiegare al consumatore cosa rende speciale il prodotto per raccontargli la sua storia, quella della sua azienda e del suo territorio. Tutte le informazioni vengono tradotte in 36 lingue e registrate con la blockchain, una tecnologia che le rende indelebili e aumenta il grado di trasparenza della filiera. Allo stesso tempo il prodotto diventa un mezzo di fatto per portare nuovi clienti alle attività turistiche del territorio, sia tra i visitatori già in loco che tra quelli potenziali che consumano il prodotto a casa. Quality Chain infatti permette ai consorzi turistici e agli enti territoriali di allearsi con i produttori locali per promuovere al tempo stesso il prodotto e le attrazioni turistiche del territorio. I produttori potranno così raccontare la loro storia e sulla stessa pagina lo sponsor potrà andare a promuovere le attività che il territorio offre, quindi dal workshop enogastronomico, dalla degustazione in cantina, ristorazione o strutture di ricevimento. Un esempio pratico nel nostro caso è quello del Consorzio Alto Piemonte Turismo che ha scelto Quality Chain e utilizzato 30 vini della zona per invitare i turisti a varie attività come la degustazione in cantina, i percorsi di trekking oppure dei tour in bicicletta. In questo modo il prodotto si trasforma da un semplice oggetto a un vero e proprio ambasciatore del territorio. Quality Chain si presta anche per raccontare progetti legati all'ecosostenibilità e all'inclusione sociale, come nel caso della Libera, che è la prima birra gluten free prodotta utilizzando esclusivamente l'energia geotermica proveniente dal biolago di Sassopisano in Toscana. La birra è unica non solamente per il fatto che è stata prodotta con energie rinnovabili, ma anche per il fatto che è stata prodotta da dei ragazzi in recupero al carcere di Volterra. Tutte queste informazioni sono state rese disponibili al consumatore tramite Quality Chain e tramite il nostro QR code a forma di boccale di birra. Un altro vantaggio di Quality Chain è la funzione del product discovery, tramite la quale i prodotti possono far rete e promuoversi a vicenda. Ad esempio sulla pagina di un vino compariranno suggerimenti per salumi o formaggi dello stesso territorio. Abbiamo scelto di far così per aumentare in maniera circolare il consumo dei prodotti locali. E allo stesso modo tutti i prodotti vengono mostrati nel più grande Quality Network, che non è altro che la nostra rete di produttori indipendenti abbonati a Quality Chain. Questo permette a tutti di base di far scoprire i loro prodotti in nuovi mercati sia locali che esteri. Oltre a tutte queste informazioni, i produttori e i consorsi ottengono delle analytics molto utili sui clienti che prendono effettivamente in mano il prodotto, come ad esempio la posizione geografica, la lingua parlata, l'età o ancora quali sono le caratteristiche del prodotto che interessano di più. Questo permette in particolare ai consorsi di avere una visione di insieme su quali sono i prodotti più gettonati di una determinata zona, chi sono gli acquirenti e in che modalità usufruiscono delle informazioni all'interno della pagina. Dal punto di vista dell'estetica abbiamo creato vari design originali per i QR code che si adattano al prodotto che vogliamo raccontare e non impattano in maniera negativa sul packaging. Qui potete vedere alcuni esempi come il calice per il vino, la spiga per la pasta o il maialino per i salumi. Questo ci ha permesso di fatto di incuriosire il consumatore ottenendo delle percentuali di scansione sopra la media. Infatti dai dati raccolti nell'ultimo anno e mezzo di test abbiamo notato che la percentuale di scansione è di circa il 31% e c'è una lunga permanenza media sulla pagina. Questo dimostra come il consumatore ad oggi vuole scoprire molto di più di quello che si nasconde dietro un prodotto. Ad oggi fra i nostri partner abbiamo un consorzio oltre 40 piccoli medi produttori e siamo inoltre partner dell'Università di Foggia e dell'Università della Svizzera Italiana che ci ha accolti nel suo incubatore. Spero di essere stato abbastanza rapido e diciamo esaustivo, comunque per qualsiasi cosa potete scriverci le domande o visitare il nostro sito o mandarci un'email. Grazie per attenzione. Grazie, grazie mille a te Ciro. Volevo fare una piccola parentesi. Ho conosciuto Ciro nell'ambito del progetto 100% local che abbiamo già citato e una che ci ha presentato ieri Christian Hoffman. Una delle cose che sono emerse è che a volte per creare questo valore aggiunto per trasferirlo al consumatore bastano delle soluzioni che sono sì tecnologiche ma non è una tecnologia che costa tantissimo e ci sono tante startup come il caso dell'azienda di Ciro che insomma che si mettono a disposizione per creare soluzioni ad hoc che soprattutto se in una dinamica collettiva con una marca che ha tanti produttori sotto come il nostro caso non costa neppure tanto e dà la possibilità di creare delle collaborazioni ma invitato Ciro perché so che sono bravi a fare i pitch in queste cose ma ce ne sono tante altre non è solo per fare uno spot promozionale. Grazie Diego. Come diceva Diego abbiamo cercato proprio di avere un target cioè trovare un'offerta che potesse coinvolgere praticamente tutti. Non abbiamo adottato una soluzione così complessa a livello tecnologico abbiamo dato la possibilità a tutti di utilizzare quality chain. Grazie mille. Grazie Diego. Allora oggi differenza di ieri abbiamo un pochino di tempo per una discussione e mi piacerebbe tornare ai esponenti delle marche territoriali che abbiamo visto prima per chiedergli per aprire un pochino una parte di dibattito così per chiedergli che cosa possono fare le politiche pubbliche ai vari livelli più regionale ma anche nazionale il livello di livello sovranazionale come l'unione europea per aiutare le marche territoriali soprattutto quelle piccole ma ma non solo. Darei la parola per primo al signor De Nulli poi la darò anche al signor Fend, del signor Offer e magari forse anche Eric se tu hai sicuramente letto De su questo si può intervenire dopo mi fa piacere sentire il punto di vista di tutti. Io direi piccoli interventi non troppo veloci così danno la possibilità a tutti di parlare e se su questo del pubblico ci sono domande invito a usare la funzione chat per dare il dibattito vi ricordo anche che una sintesi di non solo il video ma proprio una sintesi scritta delle principali cose che emergono da questo da questi due giorni poi verrà reso disponibile faremo in modo di farlo circolare a vari livelli quindi questa è una possibilità anche per essere ascoltati. Allora Daccio, M. De Nulli a voi. Grazie, Diego e io ho ben ritenuto la lezione tutto a l'ora, io ho fare, bref, l'importanza delle politiche pubblica in quanto riguarda il nostro progetto è fondamentale che ha dei appi locali. Noi, c'è il departamento, la metro e le chambri consulare. Noi abbiamo nessun finanziamento regional, national o europeo. Oggi, in una fase di sviluppo di l'acto commerciale, cioè del posizionamento dei prodotti che sono aggrazati, abbiamo una domanda al livello del plan di relazione francese per contribuire a finanziare i nostri primi emploi. Per conoscere dei finanziamenti pubblici, bisogna di partaggi di obiettivi. E questi partaggi di obiettivi possono rapidamente se heurter, e noi lo constatiamo con la regione, o normalmente la regione ha la responsabilità di economia, noi dovremmo avere naturalmente un appoglio di la regione. Il y a una marca regionale, la regione ha del gozo, che non ha forsemente, che non ha forsemente le stesso obiettivi, che non ha le stesso obiettivi, che non ha le stesso obiettivi di qualità. E quindi, c'è difficile per noi di avere un appoglio di parte della regione. Inoltre, il è evidente che, se vi interrogez sul livello europeo, il è evidente che, nel caso delle politiche agricole comuni, la moindre delle cose, che sarebbe una coerente con la monta in gambe dei prodotti. e quindi, non possiamo, a la fois, tenere un discorso di verdissement, e, dall'altro, di non sottolineare dei marci, dei progetti, che permettono la monta in gambe della produzione. Voilà, c'è tutto ciò che posso dire. Merci beaucoup, merci de non lì, c'è short, c'è très bien. Merci, e, Julie, voglio passare la parola al signor Michael Fend, per dirci il suo punto di vista, da questo punto di vista. La Francia è organizzata in maniera molto diversa rispetto all'Austria, da questo punto di vista, quindi ci fa piacere il suo punto di vista. Sì, grazie. Io dirò den noji weitestgehend recht geben, che non può essere una regione marci, che una regione marci, di una regione marci, che non può funzionare. Io dirò che sia così, che sia un'attività di la regione e la qualità di persone in la regione. Io credo, che è l'attività, che è l'attività, che sia un'attività, che sia un'attività e un'attività. E la marci può sempre un'attività, un'attività, che sia un'attività, un'attività, Grazie a tutti. Und sie auch aktiviert, selbst mitzugestalten, selbst in ihrem eigenen Bereich Dinge zu tun, die zu einer positiven Entwicklung der Region beitragen. Es muss ja nicht alles über Förderungen oder über zentrale Organisationen administriert werden. Und wenn wir es so schaffen, dass wir viele Maßnahmen in der Region haben, die in die richtige Richtung gehen, dann ist die Marke nur ein Vehikel, um das Gemeinsame sichtbar zu machen, um zu zeigen, dass da mehr ist als nur diese kleinen Einzeldinge, die so für sich, glaube ich, keine Sichtbarkeit erhalten. Und daher wäre es meiner Sicht das ganz, ganz zentrale Anliegen an die Politik, an übergeordnete Politik, diese Form der eigenständigen regionalen Entwicklung, wo die Entscheidung darüber, was eine Region braucht, in der Region bleibt auch weiterhin, weiterhin, so wie im LIDA-Programm, glaube ich, sehr gut umgesetzt, weiterhin gestärkt wird, weiterhin forciert wird, vielleicht auch ausgebaut wird. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr gutes Modell. Wir haben übrigens im Vulkanland, sind wir eine der ersten LIDA-Regionen Österreichs, 1995 nach dem EU-Beitritt. Zu Beginn waren wir im Finchgau, Herr Hofer, um uns das anzusehen, weil sie ja schon in der ersten LIDA-Periode dabei waren, waren ganz begeistert. Und das war für uns mit ein Anstoß, in diesem Programm teilzunehmen und diese eigenständigen Möglichkeiten der Region anzusehen, in Wert zu setzen und daraus zu schöpfen. Und die Marke kann, glaube ich, dann nur ein Vehikel sein, das weiterzutragen. Grazie mille. Grazie mille. È interessante che da una parte, da un'altra, delle Alpi, magari ci sono delle somiglianze, ci sono delle cose in comune, così. Allora, volevo adesso dare la parola al signor Hofer. che, come dicevo prima, si trova in un momento in cui, appunto, una cooperativa di cittadini che raccoglie delle municipalità all'interno di quest'area più grande che è la Val Venosta, quindi che non coincide con un confine amministrativo, come ad esempio la provincia o altro così, e che quindi ha delle istanze che vengono dal basso, che sono specifiche, come ci ha spiegato. Io volevo chiedergli in che modo una marca territoriale, ancora da precisare, da stabilire, in questo momento può aiutare a manifestare gli obiettivi, a conseguire gli obiettivi della cooperativa dei cittadini e soprattutto cosa possono fare le politiche pubbliche ai vari livelli, di provincia fino allo Stato, all'Unione Europea, per aiutarvi in questo nostro progetto di sviluppo territoriale che viene dal basso. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 biologiche prodotti e qualcosa che il consumente un'vertrazione azzurro, come si può vedere quali prodotti umbretti 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 e questo credo di me. Scusi, ogni tanto cambio le lingue così. Grazie mille per aver fatto questi punti molto molto importanti. Ieri, che sono veramente importanti per questo workshop, abbiamo avuto due presentazioni, una di Alessa Perotti su The True Cost of Food, in cui ci ha raccontato con riferimento alla Svizzera delle metodologie su come visualizzare tutti questi effetti esterni, così che è stata seguita da una presentazione di Mr. Hiss, che ci ha presentato una metodologia proprio per quantificare e anche monetizzare tutti questi effetti esterni che dovrebbero poi essere visualizzati in qualche modo resi accessibili e comunicati sia alle politiche pubbliche, però anche ai consumatori che, come ci raccontava Paola, prima a volte non si rendono conto di tutto quello che c'è dietro il marchio. Magari gli operatori lo sanno, però il consumatore vede un logo, ma non sa quello che c'è dietro. E questo alla fine riguarda non solo le marche territoriali, ma anche i logo delle indicazioni geografiche o i logo delle denominazioni di origine protetta, che i consumatori sanno qualcosa, ma non veramente tutto quello che c'è dietro. Ed ecco perché magari soluzioni come quelle dell'azienda di Ciro, che non solo raccontano l'origine, ma possono, con il QR code, con queste etichette narranti eccetera, rimandare anche a tutto il sistema di valori, di impatto positivo sull'ambiente, sulla biodiversità, su CO2 e via dicendo, sono veramente delle cose che possono essere messe in moto facilmente. Quindi grazie mille per aver fatto questi, messo la luce su questi aspetti che veramente ci riportano anche contenuti di ieri. Io credo che Erik tu hai nella tua ricerca fotografato questi aspetti, così cosa ci puoi dire per far avanzare la discussione? Grazie mille. 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 e ti pristope na lokalni ravni ukrepili tako, da bodo delovali boli usklajeno tudi na širrši regionalnih, ali pa se ho chieste, tudi na globalni ravni. Grazie mille. Grazie mille, Erik. Iniziamo da vere alcune domande dal pubblico. Magari chiedo a Matteo se è con noi di farle, insomma, di raccontarle in plenaria, così chi vuole può iniziare a rispondere. Assolutamente. Allora, abbiamo un commento intanto da Irma Slavic, in realtà una domanda e un commento. Intanto ringrazio Ciro Borrelli per la presentazione e per aver, insomma, dato una visione molto moderna complessiva del loro progetto di Quality Chain. Grazie, grazie. E ha anche una domanda in particolare rivolta al signor Hofer, si dice molto impressionata dal livello di cooperazione del tessuto sociale dell'Atta Valvenosta e chiede quali sono i motivi che, diciamo, portano le persone in Alta Valvenosta a, diciamo, impegnarsi, no, per portare avanti quelle che sono le caratteristiche locali del territorio. E poi abbiamo una domanda da parte di Sipri, conto? Magari una, Matteo, magari una alla volta, altrimenti è una domanda per il signor Hofer, giusto? Esatto. Ok, danke schön. Also, warum wir so engagiert sind, beziehungsweise unsere Bevölkerung in der Region, è una domanda che è stata molto che è stata in cui credo, molto con la che anche questo Pestizidreferenzum per la possibilità che per la politica turismo effluente per una modalità un referendum e qui è stata c'era sia un arabico entusiasmato e è stata molta motivazione è stato in in la Bevölkerung. E io credo anche per questo, perché il Wandel in la Landwirtschaft è sempre più bemercato. Gründe sono vendute, Landgrabbing è entrato, ma è stato un progetto progetto, ma non lo faccio, ma non è ancora più. Durante la discussione, è stato un progetto. Durante questo progetto, credo, la Bevölkerung è motivato e anche la jungen Bevölkerung e le nostre le nostre le nostre le nostre sono come Pilze sui piedi. E quindi è molto importante, che il cambiamento o che la decisione dovrebbe essere da la Bevölkerung, dove vogliono? E che gli ragazzi hanno la possibilità di essere internemmi in Startups organizzare in classiche Genossi o in altre forme. e poi è importante che un Spirit che un po' di un po' di il per il 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 per 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 il per il per fare un per la Grazie mille. E chiede a tutti i relatori se non dovesse esistere un target minimo comune che possa essere valido un po' per tutti, che riguarda gli obiettivi ambientali soprattutto collegati al Green Deal europeo, ma anche a temi più sociali come quello che riguarda una equa rimunerazione per tutti coloro che lavorano nell'ambito del settore. Sì, il signor Conto menziona anche la menzione facoltativa prodotto di montagna dell'Unione Europea che ieri avevamo con noi Euromontana che è stato un grande attore nella creazione di questa etichetta. Io allora non so per chi era questa domanda, però dal mio punto di vista che è squisitamente di marketing e di comportamento del consumatore, Sono abbastanza d'accordo sul fatto che su un prodotto quando cominciano a esserci tanti loghi è proprio una questione di psicologia cognitiva che non è il mio campo, però sono dei miei colleghi che hanno studiato molto queste cose. Più informazione c'è su un prodotto o su uno spot pubblicitario, meno passa. Quindi è effettivamente un problema che tanti loghi, soprattutto se non c'è un investimento di comunicazione per far capire che cosa vogliono dire, che affollano il prodotto di cose che più o meno significano aspetti simili che però non permettono di far capire bene. E la cosa che volevo citare, c'è stato uno studio recentissimo dell'Unione Europea sulle indicazioni geografiche, che se riesco a recuperarlo magari lo metto in chat adesso, altrimenti magari troviamo il modo di diffonderlo, che già i logo delle indicazioni geografiche tipiche e delle denominazioni di origine protetta, sebbene siano relativamente noti ma in alcuni paesi molto più che altri, ad esempio in Italia e in Francia molto più che in altri paesi europei, la gente però quando gli chiedi che cosa vogliono dire, i consumatori non sono in grado di dirlo, e addirittura le indicazioni geografiche tipiche, questo è un tecnicismo, che non sono una filiera 100% locale, mentre invece le denominazioni di origine protetta lo sono, però a volte vengono considerate meglio rispetto alle denominazioni di origine protetta perché c'è questo nome geografico nel nome, quindi intuitivamente le persone pensano che è quello che dà la maggiore garanzia. Quindi sono molto d'accordo sul fatto che troppi logo, troppi logo possono creare in generale confusione, e per me il problema non è tanto tra logo che vogliono dire cose completamente diverse, ma tra logo che vogliono dire cose simili, quindi un aspetto etico, un aspetto ambientale, eccetera. E dal punto di vista, il signor Raus, prima della bieraria giardinesa, menzionava che bisogna essere pratici, che bisogna ridurre la burocrazia, effettivamente per un produttore aderire all'agricoltura bio, a un'indicazione geografica, a una marca territoriale e a fair trade, a tante altre cose ancora, sono dei costi che si moltiplicano e bisognerebbe trovare un modo di razionalizzare. Quale sia però questo non lo so, e quindi apro la parola se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo tema. Signora De Nogli dice che forse questo potrebbe essere un tema per l'anno prossimo, quando forse dal vivo riusciremo a fare un'altra edizione di questo workshop, perché no, è un tema che può essere molto affascinante, però voglio lasciare la parola su questo, su altri temi, nostri panelisti, a chiunque voglia dire qualcosa. Prego, prego. Signor Fender, prego. Signor, darf ich? Yes. Ich glaube, dass wir hier, möchte hier darauf hinweisen, dass es meiner Sicht ganz zentral ist, dass eine Regionsmarke in aller, allererster Linie nach innen wirken muss. Es ist, meiner Auffassung nach, ist eine Regionsmarke nicht in erster Linie dazu gedacht, nach Außenprodukte zu verkaufen, sondern den hohen Wert der eigenen Region, des eigenen Lebensraumes, der Produkte aus der eigenen Region, einmal in der eigenen Region selbst bekannt zu machen. Da sind natürlich Überschneidungen nicht hilfreich. Das heißt, in der Region sollte man sich schon auf eine einzige Marke, glaube ich, beschränken und diese auch festlegen. Ich würde auch dafür plädieren, diese möglichst einfach zu gestalten. Es gibt genügend andere Labels wie Bio-Nachhaltigkeit, die uns diese Dinge schon, also andere Quali, die uns Zertifizierungen näher bringen. Das heißt, hier müssen wir nicht noch eines zusätzlich schaffen, glaube ich, aber die Regionsmarke kann vor allem in der Region stark sein und in der Region eigene Produkte, eigene Werte vermitteln den eigenen Bürgern. Wenn sie ein wenig darüber hinaus wirkt, dann ist das ein positiver Nebeneffekt, würde ich sagen, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel. Und da müssen wir auch realistisch sein. Eine Regionsmarke, die weit über die Region hinaus sichtbar und bekannt ist, das schaffen sehr, sehr wenige. Da muss man, glaube ich, viele Jahre oder Jahrzehnte auf der gleichen Marke stark sein, gut aufgestellt sein. Und das ist kein Rezept, das sehr, sehr viele zum Ziel führen wird, meiner Meinung nach. Von dem her, glaube ich, die Konzentration nach innen auf die eigenen Bürger, die sind immerhin den Großteil des Jahres vor Ort konsumieren. Den Großteil des Jahres hier ist günstiger vom Kosten-Nutzen her und bringt am meisten. Und wie kann ich jemand anderes erklären? Produkte aus der Region sind hervorragend, wenn die eigenen Menschen in der Region sie nicht einmal kaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. tra le marche o indicazioni geografiche esistenti nei parchi o i produttori bio, eccetera, però hanno un problema con i regolamenti europei che limitano molto l'utilizzo delle emozioni territoriali. Ecco, non so a chi ha questa domanda, magari ci può scrivere qualche precisazione sui regolamenti europei in questione, e magari vediamo se qualcuno vuole rispondere. C'è il signor Denoli che invece voleva prendere la parola, prego. Monsieur Denoli, ha avuto la parola? Merci. Je voulais juste préciser che dans notre démarche de marque territoriale, on a d'un départ contractualisé avec l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. C'est-à-dire che noi abbiamo chiaramente identifiché le terminologie che noi non possiamo utilizzare, che sono quindi riservate ai i GIP, e quindi abbiamo una domanda che è complémentata. C'est-à-dire che, chiaramente, on ne viene non impietta su la domanda, par esempio, dei fromaggi che hanno stato labellizzato in Isera. e noi abbiamo l'obligazione, in tant che marque, di associare, e in tutta la promozione che noi facciamo dei nostri prodotti, noi emmeniamo con noi, noi associiamo le AOP e IGP di nostro departamento. Ma c'è chiaramente del fromaggio Saint-Marcelin o del Vercors, e c'è chiaramente dei prodotti della Marchesia. Sì, questo è un punto molto importante. Allora, un concetto che viene dal mondo del marketing, che bisognerebbe adattare, si chiama brand architecture in inglese, l'architettura della marca. Si usa questo concetto dell'architettura per cercare di capire come diverse marche possono cercare di stare insieme, come se fossero stanze diverse di una stessa casa, se mi passate la metafora. E effettivamente anche il convento di Cédric Contot va in questa direzione. e devo dirvi che per quanto conosco io è un dibattito che non esiste ancora, che è tutto da fare, effettivamente potrebbe essere uno spunto per un incontro futuro in cui cerchiamo di focalizzare questo tema qua. Allora, mi fanno sapere che sono le undici e mezza, quindi oggi rispettiamo perfettamente gli orari. Ovviamente ci sono delle domande che non hanno avuto risposta, però forse in due ore non era troppo ambizioso pensare di poter mettere un punto su tutto quello che c'è da sapere sulle marche territoriali. A mo' di conclusione devo dire che io personalmente sono molto contento che abbiamo potuto avere proprio queste prospettive dai diversi paesi alpini che hanno arricchito, hanno permesso di creare dei ponti forse, di capire che da una parte all'altra delle Alpi siamo diversi perché l'INAO in Francia è una cosa che è molto francese, che magari in Italia non c'è nulla di simile, in altri paesi è ancora diverso, però veramente ci sono delle similità e per me è molto fruttuoso, molto produttivo mettere insieme queste diverse prospettive. Io ne approfitto di ringraziare tutti, oltre ai nostri padroni di casa istituzionali, quindi EUSAP, quindi la Convenzione delle Alpi, Euric Research e il Polo Poschiavo che è stato meno visibile ma comunque ha dato il suo contributo. Volevo anche ringraziare allora lo staff tecnico che ci ha permesso di fare tutto, di scambiare anche se non siamo lì dal vivo, lo staff dei traduttori che hanno fatto un lavoro eccezionale, dei traduttori e delle traduttrici. Volevo anche ringraziare personalmente Elisa, volevo ringraziare anche il governo della Carinzia, scusate, che ha pagato, insomma, ha messo a disposizione il budget per questa, per la traduzione simultanea che ci ha permesso di esprimerci ognuno nella nostra lingua madre e quindi ha permesso di dare maggiore inclusività, perché altrimenti bisognava fare un evento solo in inglese che esclude molte persone. Volevo ringraziare personalmente Elisa Agosti che, insomma, lei è stata meno in evidenza però veramente ha lavorato tantissimo e senza di lei non avremmo potuto veramente organizzare questo evento. Volevo ringraziare anche Matteo Rizzari che ci ha dato una mano enorme e spero, ancora non abbiamo grandi annunci, però spero di potervi rivedere in altri momenti, in altri luoghi magari dal vivo e di poter continuare ad avere questi scambi così interessanti e così stimolanti. Ovviamente spero che questo evento crei delle connessioni, quindi metteremo tutte le presentazioni e se volete in privato continuare a scambiare, sicuramente c'è tanto da fare. Grazie veramente a tutti e a presto. Grazie. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie. 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 Grazie.